Chi uscirà stasera dalla casa del Grande Fratello? In un vortice di emozioni e colpi di scena, il Grande Fratello continua a tenere incollati milioni di telespettatori davanti allo schermo. Con la puntata del 9 novembre 2023 che si avvicina, i riflettori sono tutti puntati sui sondaggi social che rivelano le dinamiche e le preferenze del pubblico. Secondo gli ultimi sondaggi, emerge una favorita indiscussa. Grecia Colmenares. La concorrente ha conquistato il cuore del pubblico, raggiungendo una percentuale di preferenze che si aggira intorno al 31%. La sua genuinità e il suo carisma sembrano aver fatto breccia nei telespettatori, che la sostengono con entusiasmo. In questa intricata rete di alleanze e strategie, sette concorrenti si trovano a fronteggiare il televoto. Oltre a Grecia, troviamo personaggi come Massimiliano Varrese, Letizia Petris, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Ciro Petrone e Vittorio Menozzi. Ognuno di loro combatte per la salvezza, sperando di ottenere l'immunità grazie al sostegno del pubblico. Al contrario, Ciro Petrone sembra essere il meno fortunato, con solo il 6.0,2% dei voti. La sua posizione nel gioco è ora in bilico e la prossima puntata potrebbe rivelarsi decisiva per il suo destino all'interno della casa. Mentre i sondaggi tengono banco, nella casa si tessono nuove trame sentimentali. Il legame tra Letizia Petris e Paolo Masella ha suscitato curiosità e sospetti. Nonostante gli evidenti segnali di affetto, Letizia mantiene una certa riservatezza, temendo di precipitare in una nuova relazione dopo la fine di un precedente impegno sentimentale. È chiaro che, al di là delle dinamiche interne, il vero giudice rimane il pubblico, che con i suoi voti e le sue preferenze può capovolgere le sorti di ogni concorrente. La casa del grande fratello diventa così un palcoscenico, dove ogni azione e parola può influenzare il televoto. Con la puntata imminente, l'attesa cresce e le speculazioni si moltiplicano. Saranno i sondaggi a prevedere accuratamente l'esito del televoto? Solo il tempo potrà svelare chi tra i concorrenti riuscirà a conquistare la fiducia del pubblico e chi, invece, dovrà abbandonare il gioco.